Lolo, Fabri, siamo tutti qua, vieni Matteo, allora dite quello che volete, le vostre impressioni, campioni del moto come quello dice, sereni come sempre, era scritto che non lo vincevamo questo campione, allora è così, grinta, Carmine, Carmine, non pensare a mangiare, vieni a dire qualcosa, un messaggio a quelli del Paesana, no, in bocca al lupo per i play-off, ragazzi voi tifosi giovani, bianco-verdi, andiamo un attimino anche, Abbiamo un ringraziamento anche al capo, oltre che oggi veramente ha dato veramente... Perché non so, perché ci sono a casa, ci sono uno di noi, 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 palme, 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 Andrea, adesso puoi la sfogarde... Andrea, adesso puoi sfogli... Ti la tua, ti la tu, su! Tutti bravi! Tutti bravi, come sempre Andrea, lui, bravissimo, va, si anyonee, Tira, Nogueya, a smell, mia magia! Abbiamo il gruppo storico, allora... La prima non c'è più!